Non è ancora stata costruita, in realtà non è neanche stata presentata domanda ufficiale agli appositi sportelli del comune che già la nuova moschea di Asti fa parlare di sé. È successo infatti che nei giorni scorsi esponenti della comunità islamica astigiana si siano presentati agli uffici dell'urbanistica del comune perché intenzionati a realizzare nuovi locali più spaziosi da dedicare alla preghiera. Al momento infatti è presente in città solo una piccola sale in Corso Alessandria, mentre nelle intenzioni dell'imam ci sarebbe quella di individuare una nuova struttura in cui celebrare riti e leggere il Corano. Secondo alcune indiscrezioni l'area in cui dovrebbe sorgere la nuova moschea potrebbe essere la zona industriale di Corso Casale, ma è solo un'ipotesi e in ogni caso terreno e lavori di costruzione sarebbero interamente a carico della comunità religiosa. Dal comune l'assessore all'urbanistica e vice sindaco Davide Arri tiene a precisare che per il momento non c'è nulla di scritto e che la proposta sia solo in fase embrionale. Gli fa eco il primo cittadino Fabrizio Brignolo, il quale aggiunge come gli uffici comunali stiano verificando possibili destinazioni tenendo conto delle esigenze particolari dei fedeli. Difficile stabilire una stima degli islamici praticanti residenti in città. Dall'Associazione Culturale Islamica si quantificano in 500 persone e fanno capo a più imam, consistente la comunità religiosa della Valle Belbo dove tra Nizza e Canelli si contano tra gli 800 e le 900 persone, mentre nel nord della provincia la comunità islamica è composta da circa 50 fedeli che gravitano intorno alla sala di preghiera ospitata nell'oratorio parocchiale di Villa Franca. Tante sale di preghiera, almeno tre dunque, sparse in tutta la provincia, da qui l'esigenza di dotarsi di un'unica moschea a cui l'intera comunità religiosa possa fare riferimento.